Nuovo record con visitatori provenienti anche dall'estero per il Teatro Romano di Benevento che chiude il mese di agosto registrando più di 3.300 presenze ed oggi l'importante archeologica si appresta ad una nuova stagione caratterizzata da numerosi eventi con aperture serali, musica e spettacoli. Il mese di agosto abbiamo totalizzato come visitatori 3.380. Dal monitoraggio è emerso che i visitatori sono di varia tipologia, sono arrivati dall'estero Spagna, Germania. Non è stato solamente un turismo di vicinanza sul quale io avevo molto investito per il Covid ma c'è stato qualcosa che è andato oltre. Cosa che stiamo verificando anche nella prima decada di settembre. L'anno scorso eravamo arrivati a circa 400 visitatori, 450, quest'anno stiamo già a 800, 900 nella prima decada. Dati dunque in aumento rispetto allo scorso anno, anche a settembre, ma con la fine della bella stagione il direttore assicura la programmazione non si ferma. Abbiamo fatto sì che il teatro diventasse centrale in tutta la stagione 2021. Settembre in genere lo progettiamo noi con delle aperture serali. Eventi ed iniziative che hanno reso il teatro centrale nella programmazione estiva ma resta fondamentale l'attività quotidiana garantita all'interno dell'area archeologica. Io credo che soprattutto l'attività più interessante rimane del teatro è quella del quotidiano. Noi ogni giorno continuiamo ad offrire ai visitatori accoglienza, attenzione, continuiamo a fare manutenzione al teatro.